La palla della gioia incredibile al 35esimo e va a mettere il sigillo su un 2-0 che a questo punto consente alla Salernitana di poter gestire forse, anzi senza forse, con maggiore calma un arroventato finale. Si è stato molto bravo Falzerana a farsi trovare non in fuorigioco perché la Paganese aveva ancora il giocatore sul palo, perciò ha stoppato di petto e ha girato molto veloce come nel suo... quello qui lo vedi che c'è l'uomo sul palo dall'altra parte che lo tiene in gioco.